ciao a tutti amici youtuber qui è il vostro cromigore che vi parla e oggi andremo avanti con la nostra avventura su total war room 2 ci siamo riusciti nell'episode precedente con la conquista dei nostri primi territori in medio oriente cioè in più che medio oriente in turchia quindi in asia adesso cominceremo i nostri primi passi per risponderci in turchia contro gli armeni comunque non vedo quanto è grande come impero però sembra sempre abbastanza grande intanto andiamo a livello diplomatico con conosco cominciamo con conosco poi andiamo con i vediamo un po' vediamo un po' ascizio reale well met friend satan let your words move me to anger or agreement lasciamo perdere un poco su che c'ho in cui posso commerciare nessun altro abbiamo con i galati a flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome no lasciamo perdere vabbè vabbè vediamo un po' potremmo risponderci ancora contro gli atenezi distruggerli del tutto così che non costituiscono più una minaccia ando qui dove ricostruire la città qui ci mettiamo un bel tempio qui miglioriamo l'acquedotto con passiamo questo qui fontana questa è la mia legione ok corti legionari adesso aspettiamo ancora un po' prima di potenziare l'armata dobbiamo dichiarare guerra agli alverni prima o poi intanto contro cartaggine è ora di preparare ci prepariamo ad attaccarli qui qui vediamo il meglio che possiamo fare ciò che possiamo avere cominciamo con gli obiettivi cominciamo con gli obiettivi ok questo è completato mettere il controllo di un insediamento mauritania vedremo se farlo questo non riuscire a completarlo questo non riuscire a completarlo l'uso potrebbe anche fare questo abbiamo già fatto gli uscrici un urs stato cliente bene bene adesso vedremo come farlo vabbè ci prepariamo allora di attaccare questo in alto il problema però è che sono tutti tra lealti troppo devono sfruttare la guerra contro i nervi contro gli nordici contro gli nordici però con i nordici cominciamo nel fatto di rapporti un flapping tongue che parla senza ufficienza è non venuto Bene, possiamo farlo. Cominciamo le tre? Ah, i reti. Anche gli elvesti ci odiano. Così qua si potrebbe attaccare gli elvesti. No, meglio i nordici. Che hanno la città fortificata. Però mi sa che un'armata non basterà per vincere. Troppi. Sono troppi loro. Per affrontare con una sola legione. Dovrei inviare un'altra legione lì su. Ma quale inviamo? Tanto spostiamo la prima armata di Sekun Aguero. Eppure una flotta, meglio dire, una prima armata. E qui adesso abbiamo aumentato qualche corte. Togliamone una. E devi passare il turno. Adesso troveremo la soluzione. Dato qui, mi vogliono saccheggiare la città. Dobbiamo difenderci in automatico. La saccheggeranno? Non l'hanno conquistata. Non ho saccheggiato. Devo ripararla. Ecco fatto. E adesso inviamo questa a distruggerli. Per la morte e l'hanno. Abbiamo fatto l'imboscato. Facciamo il solo in automatico. Sinceramente non vale neanche la pena combatterla. Scusa il titolo di piano. Però non è una battaglia. Come sono allogorati. Adesso fissandolo in boscato. Non è una battaglia degna di essere combattuta. Nessun avvisiamo i prigionieri. Alcuni uomini sono nati per comandare. Gli altri sono destinati a doversi inchinare davanti ai propri padroni. Ecco la fine della rivolta. Degli schiavi. Vediamo un po'. Intanto qua. Loro sono entrati in guerra. Con gli armeni. Cosa fa gli armeni sono in grossa difficoltà. Meglio approfittare di ciò. Allora. Chi è che vuole la seconda flotta e lo dica. Che gliela do. Qui non posso reclutare navi. Perché non ho un porto militare. La città cosa ha di soldati? Troppe, troppe. Tanto spostiamo questi qua. Proveremo a espanderci. Ai danni degli armeni. Sì. Poi si vedrà. Ancora per il nord non ho ancora fatto la soluzione. Al mio dilemma. La più facile sarebbe loro. Su solo che coloro ci commercio. Quello ora andrebbe già meglio. Intanto cerchiamo di migliorare qui il dissenso. A maestro mi vio questa legione su. Assieme alla mia. Qua però qua ci sono un po' di ordine pubblico. che devo sistemare. Troverò la soluzione per l'ordine pubblico. Andiamo a dare un'occhiata agli armeni. Come sono messi. Se non fanno proprio schifo. Fate di essere città agli armeni. Boh. Deve di passare il turno. Non ho cartato a te lo soluzione. E i problemi. Tanto qua ancora niente di strano. Qui. Mi mettiamo questo qui. Per ridurre. Il dissenso. Con la tecnologia che potremmo. Con quella militare. Ah davvero. Stiamo facendo questo qui. Qui facciamo. Vediamo un po'. Questa. Qua intanto. Convertiamo la città. In una colonia con un borgigione. Questa è una l'officina. E qui mettiamo. Questo si. Facciamo il turno. Allora. Facciamo qua. I lavori. Facciamo questo qui. Così tutte le recrute. Hanno già un attacco di esperienza in più. Qui facciamo un corso più generale. Boh. Deve di passare il turno. Non vedo a che altro possiamo fare. Siamo pronti per le ordine. Tutte le mani per le ore. Non vediamo. Adesso comunque una guerra. Dovremo dichiararla. Se vogliamo continuare a rispanderci. E che nessuno mi ha ancora dichiarato guerra. Hanno paura di me. Evidentemente. Ah, e lì sono satiristruttati. Sì. Vediamo un po'. Sì. Siamo questo. Qua nei miei territori. Cosa facciamo? Sì. Aumento e miglioriamo il marmo. Qua tra la motosco però una rivolta. Questa è una rivolta. Questa è una rivolta. Questo qui. Per migliorare il malcontento. qui ci sono i nervi eh però sono due grosse armate però potete attaccare loro dato che loro mi hanno tolto un alleato sono messo forzata cosa quasi attacco i nervi venite qua qui a spena avremo soldi sufficienza cominceremo a reclutare di nuovo e dobbiamo ancora avvindicarci dello sconfitto subito contro i cartaginesi vediamo un po vediamo un po passiamo ancora il turno dobbiamo iniziare con la campagna militare in africa vediamo un po vediamo un po cosa fanno gli altri niente ancora sono te di caro guarda a parte quei livelli che sono manifestati facciamo in automatico mi riprenderò la città i veniti sono tornati a rompere le scatole ma sono stati di nuovo distrutti adesso scoprirò una nuova rivalta bene mi daranno posso costruire qualcosa di nuovo costruiamo costruiamo un bel un altro bel acquedotto ma si dai la roma posso costruire qualcosa? no vediamo un po vediamo un po miglioriamo l'economia prima con turno poi completiamo questo quasi avrei fino al lipo dopo andrei qua si abbiamo completato ne ho ancora migliorato la flotta ma forse dovremmo migliorare un po le infrastrutture si penso proprio di si cosa fa a proposito? non sono uscito a raggiungere una cosa vabbè ci guarderò dopo vieni qua direi di passare il turno ancora loro i veneti mi sa che adesso ci pensavano due volte per mi attaccare ah ah si i ribelli ad atene eh grazie tilis no ci sono dei prigionieri oh ok abbiamo attaccato una ricerca mi da un po' va bene Ok, finalmente abbiamo incontrato gli egiziani Ci odiano Facciamo un po' di ricerca se ci penso Pover Paolo, su come stanno il fatto di politica? Abbiamo solo il 35% di influenze del senato, quindi facciamo un po' di intrighi politici Ecco fatto, così per garantirci qualche segnatore in più Mestuggiamoli Una volta per tutte Ma direi di prenderci qui con... questo è il nostro nuovo capitolo Ti prepariamo ad attaccare su Facciamo un'occhiata qua I nervi, però bisogna vedere come sono messi Rischiamo Ancora un pochino Vabbè, ok Non ci sono armate lì Bene, direi di passare il turno e di finire qui questo nuovo capitolo Qui mettiamo un bel acquadotto Mettiamo... forse è meglio questo Si Poi si vedrà Direi che qui è tutto dal vostro rombigore E ci vediamo al prossimo gameplay Ciao a tutti amici youtuber A tutti amici E chioma A tutti amici Chiamo La scuola